ma per tutti i tre cazzuoli ben ritornati nell'ottavo appuntamento della serie principale di minecraft perché stiamo qua allora vi ricordate che qua a sinistra c'era la montagna off camera me la sono spianata completamente dove noi c'è la montagna ricordate si guardate va bam l'ho completamente spianata l'ho completamente spianata bucio di culo raga che voi non avete idea allora io intanto in questo episodio volevo fare uno due tre e quattro uno due tre si qua volevo fare un ponte la di quanto l'ho fatto il ponte lo so raga c'è pure casa da fa però purtroppo questi episodi non ho moltissimo tempo a disposizione il perché ho fatto un video andatevelo a vedere dovrebbe essere uscito prima di questo allora qua so uno due tre e quattro e là allora so quattro questo è carino comunque ok là invece dato che la distanza è un po' più grande ci metterei un boato ma un boato lo vorrei fare allora fammi vedere quanta roccia abbiamo uno uno due tre cinque stacche e mezzo voglio dire non è per niente male ma io una di queste ne prendo non si sa mai eh si voglio fare i mattoni di pietra ho tre stacche e mi faccio i mattoni di pietra e volendo posso farci le scale famose 40 scale si va allora cominciamo a farsi questo ponte sempre sperando che basta il materiale era quattro se non sbaglio no quindi uno due tre e quattro pure preciso e pure sì beh i mattoni è figo dai i mattoni non è affatto male semplicemente tiriamo dritto e chi si è visto si è visto dovremmo arrivare là o là o qua ora vediamo ma no che cazzo sto a fare basta che tengo per motoshift sono un cretino ma mi sa che due stacche non ci basteranno mai nella vita faccio proprio semplice semplice raga perché sennò c'è stare una vita che ripeto non c'ho proprio c'ho il tempo contato col contagocce calcolate a farlo con gli slab c'è mettere una vita fammo così oh te che cazzo ci fai qua a schifo a schifo a schifo via qua via 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 c'è ah sei volato male eh figlio della merda sto ancora vivo e che non lo so via 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 bravo sali va a fare in culo merda mi ha dato una cosa incantata si però de maglia una merda fu un ambulismo devo fare oh ma porca merda meno male che l'ho visto se stavo costruito e mi sparava ero beatamente morto allora continuiamo il ponte perché comunque io volevo farlo pure qua al ponte che se dobbiamo andare da quella parte è inutile andare laggiù fare tutto il giro per venire qua a sto punto ci stiamo no queste sono scale sono un cretino vabbè dopo li racconto mare ma buca e ola oh precisi raga ce ne ho tre preciso 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 tac tac e tac poi i bordi io invece di metterli qua e qua e di rubargli due spazi io farei il proseguito dei muri e infatti tanto ce l'ho che cazzo ci frega quanto male corazza di maglia io direi di fare la continuazione del muro ma che cazzo ci frega faccio la continuazione e chi ci ammazza ti parevo che devo fare la minchiata del secolo già fa notte che coglioni qua c'era la scala ora devo risalire qua metto la terra e qua metto la terra finisco sta parte che ha deciso da fare oppela ok proprio semplice 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 qua 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 e qua ma dai si può fare raga è caruccio su è caruccio dai no figo raga dai sembra no a me piace raga a me piace una cifra per giuro proprio figo 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 ti pareva che devo mangiare questo strano strano che devo mangiare questo ma devo fare il cancello se questo ciccione entra ogni volta la stessa storia allora come avete visto allora il ponte l'ho fatto devo fare il cancello quindi mi servono stecchi tanto farò tranquillamente le assi e le staccionate guardate ah no eccoli i cancelli va bene faccio un paio rega sti cavoli faccio un paio e poi mi porto qualche muretto qua giustanza non si sa mai ho pensato no 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 stavo pensando a cosa di mettere i cannelli al contrario dove il muretto sembra sospeso però poi non si vede il mattonato ma si vede la cobblestone no non penso non mi farebbe impazzito lo penso tranquillamente cos'è più carino tanto manco se posso un paio è fuori volendo quindi allora e si serve vedi ho fatto bene a portarlo lo sapete che non mi ricordo mai laggiù come ho chiuso eh no 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 devo andare a vedere laggiù perché guardate qua i maiali è un montagna va eccoci qua in montagna allora mazza che vasca che se devo fare mamma mia non mi ricordo come ho messo i cancelli uno due non mi ricordo proprio calcolate ah no ah no sono due attaccati chi fa vedere allora ok il muro muro e due cancelli cazzo però l'ho messo di colore diverso vabbè sti cazzi ho sempre due cancelli voglio dire ma che me frega ma che ci frega che verci erano noi ce l'avemmo adotti qua quindi erano due cancelli beh sta bene figo dai regà altro che la serie dell'altra volta altro che la vecchia serie qua si che muo fa i grandi culi altro che aspettate aspettate che c'ho talmente tante da in testa che voi nemmeno immaginate veramente regà quindi era così era così era così ed era così perfetto poi quando andremo nel nether prenderemo quelli del nether che noi che ci possiamo passare gli altri no a tutto punto da me qua va però vogliamo fare cose fatte bene che cazzo no oh dai il ponte è fatto io mo comincerei a pensare come far casa allora intanto per casa serve la cobblestone pannelli di vetro tre pannelli di vetro e due normali poi me serve me serve me serve un paio di slab lastre di roccia poi questo che può servire questo muretto scala per ora può abbastare che palle questo io dovevo mangiare due secondi fa ma che coglioni ma c'è sta qualcosa che non fa io sentire la fame porco due che cazzo tu mani oh stimo mio ah ecco quel veloti qua io ho aggiustato regà l'ho fatto ben o male circolare da quel che poteva venire circolare con dei quadrati però figo figo mi piace così regà più o meno più carino circolare sinceramente allora queste le devo assolutamente levare perché comunque qua dobbiamo costruire levate sì allora io qua voglio fare le vetrate sempre se vengono ma no sì dovrebbero venire pensa ok le due vetrate sono fatte io ora farei di lastre di roccia no lo sapevo cristo santo quanto odio queste cose che coglioni guardi guarda che coglioni che palle che palle che palle zucalo bastardo non penso che mi basteranno mai ma è certo che non mi bastano se faccio ste minchiate invece penso che mi bastano regà e qua io vorrei fare di cobblestone per dare una smorzata ah no qua devo avanzare di nuovo con questi perché se no metterei con la cobblestone per smorzare e qua si prosegue con la cobblestone qua di cobblestone poi se si può sempre migliorare ora la sto facendo al momento regà non è che cioè la sto facendo così poi non vi preoccupate se c'è da migliorarla se migliora non è un problema le finestre io faccio di due così così qua la di due ah no qua è uno la devo fare così eh no si per forza la è due qua è due perché vorrei fare parecchie finestre si ce sta ce sta ce sta e sopra si aiude con la cobblestone prima che moro faccio così e vabbè la oddio 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 aiutami te aiutami le madonne come partono male come partono e qua io puoi chiudere qua puoi chiudere con la cobblestone no 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 eccomo che posso fa mo chiudo con la roccia a vedere come si vede da fuori beh 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 quel pezzo è fighissimo quel pezzo è veramente figo quel pezzo è veramente figo raga bello bello no no mi piace mi piace vabbè ragazzi l'appuntamento può finire qua ora non fa di caso non so perché mi ha cambiato così a cazzo il personaggio mo è la donna vabbè dettagli che non vi sto a raccontare come ogni video mi raccomando commentate condividete e iscrivetevi al canale se vi va al prossimo appuntamento con un altro episodio di minecraftita bella raga che che le ti 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 Grazie.